Una buonasera gentili telespettatori, un bentrovati all'appuntamento con 8 gol, il grande salotto del calcio di 8 Channel dedicato al Benevento, ma non solo. Benevento che ha perso a Brescia, terza sconfitta su sei partite di campionato, altre due vinte, una pareggiata a Genova. Un momento complicato, i fantasmi dell'Altalena che abbiamo fatto vedere la settimana scorsa dell'anno scorso si rinnovano anche all'inizio di questa stagione. Ci sono da capire molte cose anche sul futuro dell'allenatore e cercheremo di farlo questa sera, ovviamente perché delle riflessioni la società le sta facendo. Approfittando della sosta perché il Benevento tornerà a giocare il primo ottobre con Lascoli al Vigorito. Parleremo della partita di Brescia, cercheremo di fare un mini bilancio delle prime sei gare di campionato e ci proietteremo verso il futuro. La sosta benedetta per cercare di dare l'infa vitale ai nuovi arrivati, a quelli che sono arrivati sul mercato di agosto praticamente negli ultimi giorni e per la prossima partita con Lascoli. Tutto questo lo faremo in compagnia di Nando Orsi. Buonasera Nando. Ciao, ciao Gianluca, buonasera a tutti. Ed è un piacere avere con noi una new entry per questa trasmissione, è stato calciatore e capitano del Genoa, allenatore del Genoa, adesso apprezzatissimo opinionista a livello nazionale Claudio Onofri. Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera Onofri e buonasera alla responsabile dello sport di Otto Channel, Sonia Lantella. Buonasera Sonia. Buonasera, un saluto a tutti. Simone Puleo, il responsabile, il coordinatore del settore giovanile del Benevento, che tante belle cose realizza come dirigenza e in campo con i calciatori che ha a disposizione, sia per l'Under 15 che per l'Under 16, 17 e per la primavera. Buonasera a tutti e grazie Gianluca. Buonasera a Simone Puleo e ben trovato anche per lui, almeno per quanto riguarda le edizioni dell'anno scorso. E quest'anno è una new entry, quindi insomma ben trovato anche a Simone Puleo. Cominciamo subito con la prima slide, perché Fatal Brescia, l'anno scorso devo dire il campionato del Benevento cambiò un po' rotta dopo i primi giorni di novembre, quando ci fu quello 0-1 qui, un po' casuale, però spezzò le gambe al Benevento e da lì ci furono gli alti e bassi che poi hanno portato la squadra di Caserta ai playoff a Spizzichi e Bocconi. Com'è andata Sonia la partita di Brescia? Perché Caserta mi è sembrato non molto critico nelle dichiarazioni, però poi i commenti invece sono stati abbastanza negativi. C'è un Benevento sterile anche nel primo tempo quando ha tenuto molto palla. Ma guarda, io sono stata molto chiara anche nella prima domanda che ho fatto a Fabio Caserta, nel senso che mi ero già dato una sorta di risposta, però lui non era d'accordo con la mia disamina. A mio avviso nel primo tempo il Benevento ha retto, io ho visto una partita abbastanza equilibrata, nel senso che neanche il Brescia ha fatto molto, però nella ripresa c'è da dire che c'è stato un calo, un calo da parte dei giallorossi, il Brescia è venuto fuori, in termini anche di intensità, di condizione fisica, di certezze, quelle che sono venute a mancare alla squadra di Caserta. Nella ripresa si è vista un po' la prestazione di Cosenza, sempre col Cosenza, scusate, al vigorito, sempre nel secondo tempo. Ed è stato un passo indietro rispetto ad un modulo riconfermato, quel modulo che a partire dalla sfida contro il Genoa aveva dato delle certezze. Poi lui aveva cambiato qualcosina, ha messo dentro, chiamiamoli big, quelli che sono arrivati nell'ultimo blocco di mercato, con Schiattarella nel ruolo di play, con questa coppia inedita forte Simi, la difesa con le verbo centrali, Glick sulla destra, dove secondo me ha affaticato un po', poi Caserta ha dato la sua spiegazione, ha detto che i pericoli maggiori del Brescia arrivavano per le vie centrali, però secondo me Glick è un calciatore che deve giocare nella difesa a tre al centro, ma anche per una questione di età, di caratteristiche, di condizione fisica. Però nel secondo tempo c'è stato proprio un calo fisico e mentale, troppi errori dei singoli, che secondo me sono sempre figli di un'incertezza del collettivo, perché quando parliamo di errori dei singoli dobbiamo sempre guardare il collettivo, una squadra si gioca in undici e sono venuti fuori i vecchi fantasmi, secondo me è una squadra non tranquilla, forse perché anche questo gioco della Margherita resta o non resta, ha condizionato anche la testa dell'allenatore. Eh sì, prima di andare dai nostri ospiti ti chiedo, Sonia, innanzitutto come sta a carici? E poi la curiosità, perché non ha giocato Capellini in difesa? Mica ha pagato, diciamo così, dal punto di vista psicologico l'errore poi della partita scorsa con il Cagliari? Sai, è una domanda particolare perché si parla sempre di dare spazio ai giovani, qui abbiamo Simone Puleo, ma poi ci sono delle squadre che sono chiamate a vincere e quindi tendono sempre poi a mettere dentro l'esperienza. Ed è chiaro che l'Everba non ce lo dimentichiamo, un calciatore che nella passata stagione col Pisa ha fatto benissimo, è chiaro che nel momento in cui ritrova la condizione lo butti dentro. Io più che chiedermi il perché Capellini fuori, visto che come hai detto tu, insomma ha avuto anche delle disattenzioni figlie della giovanità, di un campionato diverso, lui ha avuto comunque la sua esperienza in Spagna, poi nel settore giovanile della Juve, più che altro insomma mi ha stupito il cambio di posizione di Glick, perché vai completamente a stravolgere l'assetto difensivo, cioè tu non solo inserisci un nuovo elemento, ma poi cambiando di posizione vai ad alterare tutti quelli che sono gli equilibri, insomma questo. Effettivamente, questo l'hanno notato diversi. No, ma la ricordo 2000 o 2001? 2001. No, perché volevo entrare, se mi consentite, sul fatto generale del nostro calcio, che onestamente, cioè riteniamo un 2000-2001, che cominciano ad avere 21-22 anni, un ragazzino, ragazzi, dalle altre parti, ma anche in campionati importanti, e sto parlando, non sto parlando solo in Scandinavia, dove li lanciano 2003-2004 ogni 5 minuti, per cui voglio dire, è anche questo un ricambio globale che ci deve appartenere per ricrescere storicamente, come appunto la storia ci insegna, insomma. Poi Claudio Onofri ci parlerà anche del Genoa, che è una delle candidate alla promozione, neo-retrocessa, in casa della quale il Benevento è riuscito a pareggiare 0-0 qualche settimana fa, una partita gagliarda da parte della squadra di Caserta. Nando Orsi, tu che invece hai vissuto l'anno scorso un po' tutta la fase altalenante di questo Benevento, tre vittorie, due sconfitte, cinque partite con risultati positivi, tre sconfitte, e così via, fino alla fine. Sta ricominciando? Eh ma voglio capire, tre sconfitte su sei partite, sono tante, cioè giustificano la messa in discussione di un progetto? Guarda, oggi, ieri che è stata l'ultima giornata, prima della sosta, le squadre di Serie B si sono scatenate, è sonnerato Castori a Perugia, è sonnerato Maran, che hanno preso D'Arrigo, è sonnerato Gattuso e è andato l'uomo. Quindi c'è un momento di riflessione, d'altronde gli allenatori quando fanno questo mestiere sanno benissimo che vanno in conto a questo tipo di situazioni, e Fabio Caserta lo sa benissimo, ma lo sapeva già prima della partita con Genova, giusto? Quando c'è stato dentro, fuori, sembrava esonerato, poi dopo la partita con Genova, paradossalmente la partita di domenica, la partita di sabato non dovevi perderla, quella di Genova invece l'hai pareggiata, è un po' si è compensato, ma in generale le riflessioni le fanno tutti quanti, soprattutto in un ambiente come Benevento dove tu parti per avere un qualcosa di diverso. Tu hai fatto un allenatore, cioè sei allenatore, se dopo sei partite la tua squadra ha perso tre volte, cominci a sentire la panchina che traballa? Ma non è tanto un problema di questa cosa, sì la cominci a sentire, ma il problema secondo me è di andare lontano, cioè piaceva Caserta all'inizio dell'anno? Erano convinti di Caserta all'inizio dell'anno? Perché dopo due partite, una persa col Cosenza, già era in bilico, quindi che vuol dire? Che non c'era una grandissima fiducia, poi dopo io spero che il Benevento continui con Caserta, perché poi dopo gli dai fiducia e può darsi pure che ricomincia, però in questo momento delle riflessioni sicuramente le stanno facendo. Devi avere la capacità di risettare, non devi guardare la passata stagione, il Benevento è uscito dai play-off contro il Pisa, una semifinale, e veniva da un finale di stagione difficile, perché è stato un campionato che ha aspettato tutte le squadre, non solo il Benevento, ha aspettato il Monza che poi è riuscito ad arrivare in A tramite proprio la finale, play-off con il Pisa, e lì è avuto sempre la sensazione di un Benevento che potesse raggiungere i primi due posti, però poi c'è stato insomma questo calo forte, poi l'uscita dai play-off, allora lì o è la capacità di risettare, di dimenticare, di far finta che quel campionato appartenga ad un altro allenatore, e quindi partire con un caserta rinnovato, oppure ti porterai... No, perché sai che cos'è, Nando, che quando tu vai a vedere il dato, il dato di caserta, tu non guardi tre sconfitte, tu guardi le altre sconfitte, le vai a sommare, allora lì non devi partire con caserta. Però ti dico che l'anno scorso il Benevento veniva da una retrocessione dalla serie A alla serie B, giusto? Quindi un po' devi resettare, cioè le squadre che vengono da serie A e serie B devono un po' resettare. Io sto dicendo che stanno avendo tutte quante difficoltà, ma infatti chi è in testa in capione della serie B? La Regina? Regina e il Brescia. Il Brescia? Cioè squadre che ormai fanno la serie B da tanto tempo, quindi hanno un tipo di mentalità. Il Cagliari ha difficoltà, il Benevento ha difficoltà, il Genova ha avuto difficoltà, no? Quindi le grandi squadre, il Venezia, quindi le grandi squadre quando vengono dalla serie A alla serie B devono metabolizzare. Quindi giustamente, come hai detto tu, o si dimentica quello che è successo l'anno scorso, si resetta e si ha una fiducia... Però per me il discorso va messo sul piano, per mio conto ovviamente, sull'idea che ti fai dell'allenatore, no? Che hai a disposizione, cioè come lo prendi e cosa pensi di lui. Ora non sto banalizzando il concetto che il risultato che c'entra, basta che giochi bene, sei organizzato, ci mancherebbe altro, se non vinci mai, eccetera. Però per vincere, a mio avviso, bisogna avere determinate qualità, no? Da imprimere nella testa dei propri giocatori un assetto di gioco, un'identità di gioco, un canovaccio che poi tu rimetti in campo. E allora in questo senso qui poi i cambi di allenatori, molti dei cambi degli allenatori, sono obiettivamente incomprensibili per quello che vedo io. Ma non sto parlando di Caserta, di Tizio Cazzo, sto parlando in generale. Io faccio sempre l'esempio che è un mio amico, ma non è per quello. Casperini, voglio dire, non ha vinto niente. Ci sono dei giornali che dicono zero titoli, Casperini. All'Atalanta zero titoli. Ma io se scrivi queste... Appunto, ma dico zero titoli, ma dico ma in cinque anni in centro, la prima volta che non ci vai, tutti sorpresi che dici, mamma mia, non sono andati all'Atalanta, stiamo parlando. Lui valorizza, Gürssen, se lo prendi a 4 milioni e lo rivendi a 20. Perché? Perché è bravo, Gürssen, mica l'ha fatto diventare lui un giocatore. Però, però, vuol dire che se elevi il valore di tutti quanti quelli della rosa, ottieni anche i risultati. E qui torniamo al discorso iniziale. Allora, io ritengo che poi parleremo ancora con Sonia e con i nostri ospiti. Quindi la società stia facendo delle valutazioni accurate anche perché, insomma, ora è delicatissima la situazione. Perché cambiare per cambiare non è il caso. E ci sono tanti elementi da tenere presente. Non ultimo quello del modulo, il 3-5-2, perché la società ha costruito la squadra nella fase finale di agosto del mercato proprio per questo tipo di modulo. Per esempio, poi vedremo i papabili, se Caserta... Ci sono giocatori con caratteristiche diverse. Secondo me il Benevento può fare anche altri moduli. Anche il 4-3-3, dici? Il Benevento può giocare anche con una sottopunta. Certo. Non ce lo dimentichiamo, il Benevento può giocare col trequartista dietro alle due punte. Perché Farias può fare il trequartista dietro a Forte e Lagumina, piuttosto che Simi e Lagumina. Hai anche Ciano che può fare il trequartista volendo. Però non il 4-3-3. Ci sono arrivati tanti difensori. Tu fai un 3-5-2, che abbiamo tutti quanti detto positivo, perché noi siamo figli dei risultati. Attenzione, è chiaro, abbiamo trovato delle certezze. Però se ci ragioni, quando vedi che è un Benevento... Perché poi lo scopriamo, anche noi partita dopo partita. Quando vedi che è un Benevento che crea poco, noi non ce lo dimentichiamo, che i quinti sono terzini. Fino all'altro ieri i quinti hanno fatto i terzini. Non è un 3-5-2. Bravo. Va bene. Poi vedremo però perché la coperta forse è corta col 3-5-2, 5-3-2. Simone Puleo, da coordinatore del settore giovanile, ovviamente è un tesserato, quindi dobbiamo sempre stare attenti, soprattutto tu, a quello che dici. No, voglio capire... È una fase delicata, senza che ci giriamo intorno, ma è una fase delicata. L'ha detto Nando prima, quando uno è tesserato o entra a far parte di una società, sa benissimo i pregi e i difetti di ogni società, i rischi che si corrono. Quando tu alleni una sua squadra, in questo caso Caserta, che è anche un amico, sa benissimo che quando fai sei partite e c'è numeri che purtroppo in questo momento magari non sono nelle aspettative della società, o magari dello stesso anche allenatore, le riflessioni ci sono per forza. Poi siamo in un periodo del calcio dove il cambio è molto più facile, come diceva il mister, in questi periodi soprattutto di sosta, tutto può succedere, è inutile girarsi intorno. È naturale che per una squadra come il Benevento, che è costruita per fare un campionato di alta classifica, vedere nella casella sconfitte, tre sconfitte dopo sei partite, ti può venire il punto di domanda. Adesso la società sarà brava e dovrà decidere se continuare con un progetto o magari cambiare un progetto. Naturalmente prima vi sentivo parlare anche di moduli, ma in questo momento credo che il modulo sia l'ultimo dei problemi, perché se si cambia l'allenatore non si cambia o si decide di restare. Lo stesso con Caserta non si cambia o si decide di restare per il modulo, si decide di restare per delle motivazioni che sono cose ben diverse. Però per esempio un allenatore come D'Aversa, faccio un esempio, che gioca principalmente con un 4-3-3, in questo momento il Benevento, gli altri moduli di cui parlava Sonia ci sono tutti, con il trequartista dietro le due punte, ma il 4-3-3 in questo momento non è un modulo che potrebbe utilizzare il Benevento con i giocatori che ha, per le caratteristiche che ha. Quindi D'Aversa magari si autoesclude. Ma io credo che chiunque dovesse venire, se dovesse venire, il bravo allenatore, quando mi insegnano, è colui che si adatta ai giocatori, non è il giocatore che si adatta all'allenatore. No, no, sicuramente, non tutti però lo sanno fare, io adesso non lo so. Si adatta ai giocatori in relazione al fatto che li devi mettere, come pensi tu lo schema che alla lavagna conta meno di zero, perché sono i movimenti che stanno lì? Stanno fermi, stanno fermi. Ma io non ho mai perso alla lavagna. Alla lavagna stanno fermi, manco lì. Non è sulla lavagna, sulla carta io non l'ho perso, io ho perso sul campo, ma sulla carta no. No, per dire che allora devi però individuare le caratteristiche precise e qui mettiamo in gioco anche la società nel precampionato, io voglio giocare in questa maniera, devi mettere in campo i giocatori adatti. Per esempio adesso parlando poi del Genoa eventualmente, a mio avviso in questo famoso 4-2-2-2 di Blessing, a mio avviso Portanova e Melegoni e compagnia eccetera nel 4-4-2 che diciamo io non sono esterni di caratteristiche dribblo eccetera, c'entrano assolutamente niente. Non l'ho mai visto questo 4-1-2-2-2, l'ho guardato attentamente contro il Benevento, io in campo non lo vedo, cioè non riesco, eppure li so vedere i moduli. Ultimamente devo dire che c'erano dei flash, ma era un movimento che era talmente anticipato, dei due esterni che venivano dentro, senza aspettare che i terzini fossero alti e uno dei due centrali andasse a prendere, i centrali di centrocampo, Badel e Frendrup andassero a prendere i palloni lateralmente al posto del terzino che si era inserito senza palla, che la lettura di questi movimenti era talmente chiara da parte degli avversari, anche il Benevento, perché ecco qui apro una parentesi, io in quella partita ho visto una squadra veramente che potenzialmente era importante, ma anche oltre che di garra, a mio avviso anche i giocatori, io so a Campora per dire, anche a Brescia, io ho visto solo degli highlights, però ragazzi, ma anche altri elementi e quindi è chiaro che ti puoi aspettare qualcosa di più. Il discorso è questo, secondo me sta tutto nella percentuale della fiducia, perché vi spiego, allora io non difendo né accuso, perché chiaramente non sono riflessioni, decisioni che dobbiamo prendere noi, possiamo riflettere tutti insieme. Allora, è stato un mercato importante, ma è stato un mercato che ha portato giocatori non in condizione. Parlo di Simi, parlo di Schiattarella, parlo di Ciano, bravissimo, assolutamente. È chiaro che anche i difensori, è stata una difesa che comunque è andato via a Barba, è arrivato Viseli, Leverb, insomma, è una squadra che si è trovata senza aver fatto fondamentalmente un ritiro da squadra e con giocatori non in condizione. Ora, il ragionamento è, se credi ancora in Caserta, la sosta arriva al momento opportuno, perché Caserta ha due settimane per mettere in condizione questi calciatori e per lavorare con questi calciatori. Ma se non credi più in Caserta, nel senso che una sconfitta eventuale, futura, faccia ancora una volta vacillare, allora devi cambiare e dare al nuovo allenatore l'opportunità di sfruttare la sosta. Tutto qui è, ma se non si crede più in Fabio Caserta, bisogna cambiare, ma perché diventa veramente insostenibile per l'allenatore. Perché comunque non hai più certezze, anche un allenatore, per quanto un allenatore possa essere, possa mettere in conto l'esonero, non l'esonero, ma un minimo di fiducia alla base lo deve avere, se no non ha senso. Da un milione, ma la squadra ci crede ancora nell'allenatore? La mia risposta è nì. Nì? Allora è più un no che un sì. Sai, allora, la squadra ha dimostrato di essere con Fabio Caserta nella partita proprio a Marassi, perché ha giocato per l'allenatore ed è vero, ma perché Caserta, attenzione, è una persona squisita, è una persona che ha creato un rapporto con i calciatori, infatti lui si è sempre arrabbiato quando si è parlato di dissapori, ma che non ce ne sono e dà ragione. Però siamo onesti, i calciatori vanno dove sono i risultati, i calciatori quando vedono che qualcosa inizia a traballare, come disse Ciccio Graziani, il calciatore gioca per l'allenatore e quando arriva l'altro gioca per l'altro, attenzione. Dipende da che calciatori, dipende da che tempi, probabilmente adesso non hanno un'altra vita mia, però ovviamente anche lui ha sbessono, no? Io ho un episodio mio particolare con Tarcisio Budnish, con il quale avevo litigato anche di brutto e che se si incazzava, voglio dire, Tarcisio me menava come... Però, proprio perché era stato messo in discussione anche dalla società... Dove stavate insieme con... A Genova, a Genova. Ex Inter, ex Napoli, vice campione del mondo nel 1970... No, ma poi è una persona eccezionale, al di là della lite che avevamo avuto. Però, proprio perché era stato messo in discussione dal presidente di allora, Renzo Fossati, eccetera, Proprio io, da capitano, andai negli spogliatoi per dire che la prossima partita che dovevamo fare, mi sembra, a Bari, eravamo in Serie B, doveva essere fatta con il 300% delle proprie possibilità. Perché ecco, in questo caso, quello che dicevate prima, è vero che i giocatori, voglio dire, qualche volta si scostano dalle responsabilità, dandole all'allenatore e agli altri, però allora non sei un giocatore vero. Una frase che, secondo me, tu non vedrai mai o ti accorgerai poco di giocatori che giocano contro l'allenatore, ma ti accorgerai sempre di giocatori che giocano a favore dell'allenatore. Ah, ecco. Va bene, approfondiremo ulteriormente questo tema, torneremo anche su Brescia-Benevento e ci proietteremo verso il futuro con qualche dettaglio anche sul momento del Benevento, perché non latita soltanto il gioco, ma c'è un problema del gol che il Benevento si porta dietro da qualche settimana e cercheremo di capire da che cosa dipende. A tra poco. Rieccoci in diretta, 8 gol, il grande salotto del calcio di 8 Channel dedicato al Benevento, alla Serie B, ma non solo, con Nando Orsi, con Claudio Nofri, con Sonia Lantella e con Simone Puleo, che è il coordinatore del settore giovanile del Benevento. A proposito, settore giovanile a primavera, due giornate, due vittorie, prima in classifica nel suo girone, vittorie con il Cosenza 4-1 e con l'Ascoli 3-0, quindi perentorie. Mi sembra che con Scarlato si sia cominciato a lavorare. Prendiamo bene, è un percorso, però ci tengo a precisare che nel settore giovanile non è solo importante il risultato, è importante il lavoro. No, beh, certo, ovviamente. Perché a volte, purtroppo, negli errori che si fanno nel calcio italiano, eccetera, eccetera, c'è anche questa forza, questa rincorrere risultato che a volte è importante, perché nessuno nega la cosa, ma nel settore giovanile l'importante è la crescita del giocatore. Sono felice della politica di quest'anno, perché è una politica che io ho sempre sostenuto, di mandare i giovani a giocare anche in campionati di C, perché il problema, secondo me, in Italia è cullare questi calciatori, chiamiamoli gioiellini, nei settori giovanili, poi, e vengono cullati, perché quello è un altro calcio, poi vengono buttati in queste squadre importanti, chiamati a vincere con delle pressioni e loro non sono abituati. Ora, non voglio parlare del progetto Juve, no, della seconda squadra, però è giusto che un giovane debba farsi le ossa, debba crescere. Noi abbiamo un centrocampista che bisognava anche capire il ruolo, perché in Italia si era detto che era play, ora si è scoperto che è mezzala, perché poi tu li conosci facendoli giocare, stava nel Benevento parcheggiato, perché quando c'hai a Campora, che ti può fare il play, e c'hai arrivato anche Schiattarella, e avevi Viviani, e Calò, non avrebbe mai trovato spazio, parcheggiarlo lì, il giocatore non si forma fisicamente, non si forma tatticamente, non si forma mentalmente, meglio mandarlo in una squadra di C importante, dove chiaramente la società deve garantire, e sappiamo benissimo che lo puoi fare, le presenze, e poi te lo trovi formato. Questa per me è la mia politica, perché sennò culliamo questi giovanotti dei gioiellini, poi arrivano in queste squadre importanti e non riescono, e pochi, diciamo non tutti, pochi riescono ad emergere, non abbiamo più quei big di una volta. Sarò semplicistico, volevo dire a proposito dei giovani, che però, guarda caso, da quando abbiamo discusso con la Campora qui, del fatto che non ci fosse Viviani perché è infortunato, a Campora è stato tolto dal ruolo di Mezzala e messo davanti alla difesa, il Benevento ha perso due partite. Sarà un caso, sarà anche semplicistica questa mia, diciamo così, valutazione concettuale. Aspetta, 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 no, no, col Brescia ha giocato Mezzala, Col Brescia ha giocato Mezzala, Campora ha fatto una partita da Dio, è stato il migliore in campo, ha giocato Schiattarella da Play, quando ha sostituito Schiattarella ha messo quell'attimo a Campora Play, ma poi lo ha tolto nuovamente perché poi ha messo Kubica. Quindi a Campora avrà ha fatto ora il minutaggio, non lo so, ma ha fatto pochi minuti da Play, dai. Sì, però una parte della partita ha giocato da Play. Però anche quello è stato un po' confusionario, magari figlio di un'incertezza perché poi l'allenatore avverte, avverte di non aver fiducia, ecco anche questi cambi di ruolo nell'arco di una partita, prima Play, poi Mezzala, poi di nuovo Play, poi il quinto ti va a fare, insomma è chiaro che mettono in evidenza delle fragilità figlie di una non sicurezza mentale. Comunque a Campora... Un regista ti dice prima... Perché hai paura di sbagliare, perché hai paura di... Cioè, voglio dire, c'è il Cile, c'è una linea che tu conosci sempre e la riporti in campo in maniera spontanea perché l'hai interiorizzata alla grande e quando non c'è questo secondo me l'allenatore perde il valore. Adesso io posso fare un esempio, lo posso dire perché lo penso, cioè se tu vedi giocare la Juventus, no? Adesso... Ragazzi, no, ma guarda, parlo di una... Dipende dall'allenatore, Onofri? Ma certo, ma perché è chiaro che ogni tanto vinci... Quindi non è vero che non contano gli allenatori che contano poco, contano molto? Ma no, ma per me contano il regista... Quanto conta in percentuale l'allenatore? No, io la percentuale non ce la metto. 20, 30? No, per arrivare a ottenere risultati alla lunga e far crescere tutto il prodotto che è a disposizione è fondamentale. Non ti so dire la percentuale, ma è fondamentale. Il ballamento è più forte di quello che esprime in questo momento Nandorsi? Può dare di più secondo Nandorsi? Sì, tutte le squadre possono dare di più. Io ho detto prima, ho fatto un elenco di squadre che sembravano uccidere il campionato, ma lo stesso Genova. Invece non lo stanno uccidendo e stanno in testa squadre come Regine e Brescia che se tu le vedi giocare, dice come fanno essi più forti del Cagliari e il Benevento che hanno i giocatori? Sono sei partite, il Benevento come il Cagliari, come il Genoa, come il Venezia, potevano sicuramente dare di più. Guardiamo la classifica un attimo, poi andiamo da Franco Santo nel servizio che ricapitola un po' il fine settimana del Benevento. Vedete Regine e Brescia a 15 punti, sono in testa la regina Inzaghi, che Inzaghi non si smentisce mai, ma lo abbiamo già detto, il Frosinone e il Bari a 12, il Genoa a 11, Cagliari e Ternano a 10, Parma e Spal 9, Cosenza e Ascoli e Città della 8, Benevento, Palermo e Suttirol 7 e poi via via tutte le altre. Benevento ha due punti dalla zona playoff, non è distante dalla zona playoff. Quindi anche queste valutazioni bisogna fare. Se l'obiettivo è quello dei playoff, Sonia, l'obiettivo è quello dei playoff, dichiarato, quindi non è lontanissimo, quindi non è che il Benevento abbia fatto malissimo secondo l'obiettivo. Però le valutazioni sono da fare anche rispetto al gioco e al fatto che questa squadra non cresce. Sette partite, voglio dire, sei partite, la prossima sarà la settima, noi a Genova, ritorno sempre all'antica, siamo saliti in Serie A un anno dopo un girone d'andata, un girone intero d'andata, dove eravamo metà classifica e quasi sotto. Poi dopo abbiamo vinto una partita con il Varese e quindi è scattata una molla e siamo arrivati tra le prime tre, adesso mi ricordo se secondo o terzo e siamo andati in Serie A. Per adesso tutti questi discorsi sono legittimi, analitici e tutto, però sono anche un po' prematuri. Allora, Franco Santo, Brescia Benevento è il momento della squadra, guardiamo. Questa volta iniziamo dalla fine, come non si dovrebbe fare in un intricato libro giallo. Per una volta sovvertiamo gli schemi e sveliamo subito il nome dell'assassino. Si chiama Flavio Junior Bianchi, è un millennial nato ad Asti ma svezzato in Liguria, uno di quelli che il Genoa manda in giro per lo stivale a farsi le ossa. Il minuto dell'efferatezza è il novantatreesimo, quando i tifosi delle rondinelle stanno già raccogliendo le proprie cose sulle gradinate per andare via. Lui no, ha sostituito Moreo sperando nel colpo goppo. Si è quasi nascosto, si è defilato al limite dell'aria, lontano da stinchi rubidi. Quando gli arriva la sfera impatta come un lampo e la manda nell'angolo dove Paleari non può arrivare. E il delitto perfetto non c'è né modo né più tempo per porvi rimedio e la strega all'improvviso rivede nuovamente i fantasmi di qualche settimana fa. Fuor di metafora, le manchevolezze della difesa giolorussa in occasione del gol bresciano sono evidenti. Tutti a guardare il pallone, nessuno a seguire il movimento degli avversari. Fa male perdere l'ultimo alito di partita e non risolleva il morale di nessuno, neanche quell'impressione di aver subito una sconfitta immeritata. Il Brescia gonfia il petto per il suo primato, ma non lascia negli occhi della gente la sensazione di poter durare a lungo lassù. Un motivo in più per il benevento, per macerarsi nell'amarezza e per fare mea culpa. L'avversario era abbordabile, ma bisognava affrontarlo in maniera differente. L'innesto dei nuovi ha provocato ancora maggiore confusione nel gioco della strega. Tante mosse non sono sembrate azzeccate. Glick aveva recuperato un po' del suo antico ardore, giocando centrale nella difesa 3. Da braccetto di destra è sprecato, non ha né il fisico né la tecnica per fare il laterale di spinta. Simi in avanti è parso lontano anni luce da una condizione accettabile, oltre che non essere il partner ideale per forte. Schiattarella ha esordito bene, ma forse avrebbe avuto bisogno di qualche compagno che ne schermasse l'azione davanti a quel moto perpetuo di Benali, che evoluiva nella sua pozione di campo. Infine la parte mai banale della dea bendata, che ha tolto di mezzo al termine del primo tempo Karic, uno dei più positivi nello schieramento giallorosso, quello che in molti amano definire equilibratore della manovra. La classifica è deludente, come asserire il contrario, ma in fondo di tempo ce n'è tanto per renderla ancora più accettabile. Franco Santo, Brescia-Benevento è il momento della squadra, certo questi episodi sfortunati anche perché il gol al 93esimo di Bianchi del Brescia, certamente non è stato un episodio fortunato per il Benevento, però forse queste cose accadono perché devono accadere, perché qualcosa deve cambiare, no Nofri? Sì, 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 è chiaro. Può cambiare, ecco. Però in quel momento c'è da dire che faccio fatica a pronunciarlo col supias, come... Col supias, sì. Vabbè, no, perché... Col supias. E quindi, cioè, fa un movimento veramente che non si capisce, perché nel momento in cui ha la palla quello esterno, va bene, è vicino a Bianchi, poi per conto suo rientra, adesso questa è la fase finale, rientra e va a dare una mano in una situazione... Ed erano in tri, là, dove si è cadavultato lui, erano già in tri. E quella, la palla va indietro, poi ci arriva, ma ci arriva in ritardo e quindi ovviamente... Quindi qui parliamo invece di situazioni individuali, ecco, di errori individuali che determinano poi il risultato, soprattutto in quel momento. La slide del Bivio, dove si trova in questo momento il Benevento, eccola qui, guardiamo dove si va. Si va a Caserta? A sinistra o a destra? Sonia? Ma guarda, secondo me, io non credo in una riconferma di Fabio Caserta, perché troppe coincidenze, ma vedi anche il fattore ambientale, i tifosi tutti sono stati chiari, non vogliono continuare con Fabio Caserta, quindi anche questa è una problematica e di cui bisogna tener conto, perché quando diciamo che i tifosi sono fondamentali, i tifosi sugli spalti, tifosi danno una marcia in più, allora ne devi tener conto non soltanto quando sostengono, ma anche quando poi hanno dei dissapori. L'ambiente ha perso la fiducia in questo progetto, non voglio parlare di allenatore, voglio parlare di progetto. Questo progetto chiedono un cambio di rotta, il presidente forse ha perso anche lui le sue fiducia e il direttore sportivo dovrà prenderne atto e dovrà a gioco forza guardarsi attorno. Non è stato esonerato Caserta, dobbiamo dirlo, perché dobbiamo anche dare informazione, fare informazione. Quindi non c'è stato l'esonero, Caserta oggi ha diretto l'allenamento della squadra, però Caserta sa benissimo che si stanno facendo delle riflessioni. Quando si fanno delle riflessioni non ci prendiamo in giro, non parliamo di morale, non parliamo di nulla, si guarda anche attorno e si fanno anche dei sondaggi, perché questo è il calcio ovunque. Guardiamoli i sondaggi, allora in questa slide sono solo alcuni dei sondaggi fatti, oggi ha parlato anche di Fabio Cannavaro, che sarebbe una clamore. Ecco qua, vedete ci sono D'Aversa, Andrea Zoli, Iachini e Fabio Cannavaro al centro, lo vedete? Ma D'Aversa e poi Andrea Zoli no. Andrea Zoli no, Iachini? Ma non perché non piace. Iachini che gioca con 3-5-2, Andrea Zoli va altrove. Altre mie e altre aspettative. Iachini non credo sia stato contattato. Lui gioca con 3-5-2, vero? Fabio Cannavaro oggi è una notizia di oggi, insomma pare che sia stato contattato, è reduce da una buona esperienza in Cina, potrebbe certamente, diciamo, sia al pari di De Rossi. Anche De Rossi, attenzione, De Rossi non è stato depennato, si sta valutando anche Daniele De Rossi. Che profili sono De Rossi e Cannavaro? No, a me dispiace, io ho fatto l'allenatore per quello che l'ho potuto fare, l'ho fatto tre anni. E quindi sai, parlare di queste cose io capisco come si può sentire un allenatore che è in bilico. Ed è quindi anche brutto, no? Perché parli di un collega, di un amico. Anche perché probabilmente forse si sta seguendo e lo abbracciamo una certa, che a noi è molto simpatico. No, no, ma ognuno può pensarla come vuole, no? Cioè, Sonia deve fare cronaca, è giusto che lo faccia. Cioè, quindi sai, parlare di qualcuno che ancora non è stato preso e invece di un allenatore che ancora è l'allenatore, insomma... In generale, Cannavaro e De Rossi, che allenatori sono? Ecco, non in chiave bene me. Beh, Cannavaro e De Rossi sono due allenatori diversi. Uno ha fatto l'allenatore, l'altro non l'ha fatto. Quindi De Rossi è un allenatore che non si sa se gioca con un difensore, con due, con tre o con quattro. Non ha mai allenato nessuno. Mentre Cannavaro prendi il nome e il cognome e prendi un... E ho capito, e poi quale sarebbe il criterio di scelta di... È come Shevchenko, io torno sempre io, che non ha mai fatto l'allenatore, ha fatto il selezionatore. È un'altra cosa, è come al ristorante fare il cameriere o il cuoco. Lavori sempre nello stesso posto, però fai due cose diverse. Allora, io onestamente queste cose qui non... E qual è il criterio per cui si potrebbe scegliere una squadra in generale? Non parlo del Benevento. Dovrebbe scegliere uno come De Rossi? È il criterio di dire che prendo un nome che in quel momento lì... Calma un po' le acca, diciamo così. Shevchenko le ha calmate per dieci minuti però. Però anche una scommessa magari, no? Dopo un quarto d'ora... Sicuramente una scommessa. Come il Monza con Palladino per esempio, che ha fatto una grande scommessa e... Palladino ha allenato... E adesso contro la Juve, insomma, non è tanto difficile. No, però in cinque giorni ha preso una squadra in mano. Non è difficile affrontare il Lecce che non la Juve. Allenando una serie inferiore... Ma bisogna dire che posso dire io tanto da esterno che chi prenderei di quei nomi là? Andre Azzoni, tutta la vita. Perché per me... Non può venire... Perché per me rappresenta quello che penso io dell'allenatore. Che trasferisce le proprie idee attraverso... Cioè un maestro di campo, insomma. Un maestro di campo, un regista vero, ma fuori dal campo. E quindi io l'ho visto... Preziosi l'ha mandato via in un... Cioè veramente rovinando proprio di tutto e di più. Perché stava lavorando proprio per costruire. E' vero che c'è la controindicazione eventuale, per esempio in un Andre Azzoli, che devi lavorare su quel metodo. Però il campionato è già iniziato e non c'è... Andre Azzoli deve avere un po' detto perché sai... Perché sai bene come... D'Aversa. Anche D'Aversa è uno che però gli ultimi anni è andato un po' così, no? Io... Sai, De Rossi sarebbe uno che tranquillizza l'ambiente. E però in campo... Ha una grande personalità. Posso dire una cosa? Non è che ti ha inventato tante cose con una squadra di calcio, eh? Cioè, devi avere la tua idea, giochi a tre, sei buono ad allenarlo, giochi a quattro, sei buono ad allenarlo. Gli dici quelle due o tre cose, c'è un entusiasmo rinnovato e piano piano aiuti anche l'allenatore. Poi De Rossi, che ne so, avrebbe un credito un pochino più lungo. Scusami, Nando, perché adesso andiamo da Ettore Intorce a Corriere dello Sport. Se tu dici non devi inventarti qualcosa, no? Io poi... Noi gli allenamenti come giornalisti ormai non li vediamo più. Ma tu l'hai visto mai? No, voglio capire una cosa. La differenza, se non la fanno l'invenzione della testa dell'allenatore, la fanno le tecniche di allenamento. Perché per esempio uno come Sarri non si inventa nulla di nuovo. Però poi quando ti fa allenare ti fa provare mille volte il movimento della difesa, mille volte l'attacco alla porta. Ma tu hai visto mai delle squadre che vanno male a un certo punto, prendono l'allenatore e a un certo punto vanno bene? Ma che c'è la banchetta magica l'allenatore? Che si inventa? Cosa fa? Anzi, è proprio quello che dicevo io, Nando, può essere anche il contrario perché se devi lavorare in una certa maniera, attuando i tuoi metodi d'allenamento eccetera, non hai il tempo per poterlo fare perché la domenica devi giocare e quindi ti devi adeguare. Però, Nando, credimi, io mi rifaccio sempre a Rigo Sacchi che ha cambiato completamente il calcio nel mondo, non solamente in Italia, per mio conto, va bene, dove vidi per caso una partita Parma-Genoa, Genoa-Parma anzi, poi dovevi andare a vedere un giocatore, facevo già l'osservatore, e le statistiche di quella partita erano non tanto quanti tiri in porta, non tanto quanti dribbli, quante volte aveva passato metà campo il Genoa, tre, era facilissimo. Allora chiesi a Riccardo Sogliano di farmi andare a vedere gli allenamenti a Parma, poi ci andai anche quando allenavo l'ospitaletto a Milanello, quando allenavo al Milan, era un altro sport, era un altro sport rispetto a quello che avevo fatto fino a quel momento lì, cioè erano insegnamenti, erano metodi di allenamento fuori dal mondo, ecco, allora di lì poi mi è entrato dentro, in testa che effettivamente l'allenatore può cambiare, anche il valore della squadra, non vincere gli scudetti o vincere le partite, perché le vincono i giocatori, però ti cambia veramente il valore della squadra. Sono molte volte, anche con i cambiamenti di allenatori, sono i giocatori che hanno degli stimoli differenti, e che fanno delle cose che fino a due settimane prima non le facevano, e quindi è una cosa impossibile, com'è possibile questo cambiamento? Quindi vuol dire che anche i giocatori ogni tanto si dovrebbero dare una regolata nel pensare che dovrebbero dare forse un po' di più invece che adagiarsi su degli alibi che molte volte loro diranno fuori. Vado subito a Sonia, però voglio presentare Ettore Intorcia che ci sta ascoltando dalla redazione di Roma del Corriere dello Sport Stadio. Ettore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Sonia, volevo aggiungere qualcosa prima. Volevo dire che è chiaro che il Benevento ha bisogno di sicurezza e di certezze, per cui un minimo minimo di esperienza ci vuole, Cannavaro già un po' di più rispetto a De Rossi ce l'ha avendo allenato seppur in Cina. Poi è chiaro che sono anche sempre un po' delle scommesse, io ad esempio sono onesta, sottil all'Udinese, beh io non pensavo partisse così bene a me come allenatore, mi ha stupito quando ho sentito di sottil all'Udinese, ho detto vabbè, vuole retrocedere e gioca bene, non perché ha vinto contro l'Inter, ahimè, perché sapete che io sono per metà anche interista, ma perché gioca proprio bene. Poi è prestissimo, lì parliamo di sette giornate, in serie B di sei, è ancora molto presto, però ha dato già un'impronta alla squadra, poi è chiaro, poi ci sarà ancora un campionato lunghissimo, ci sarà il mercato di gennaio, bisognerà vedere cosa farà la società, parlo dell'Udinese. Cioè la sosta quest'anno sarà tutto veramente diverso, però per dire che poi è chiaro troppi calcoli, non li puoi fare, ma un minimo di esperienza ci deve essere, io la penso così. Ettore Intorcia, Beneventano, conosce molto bene anche lui la piazza, che succede, in che direzione si va, di nuovo verso Caserta o da un'altra parte? Hai visto le quattro foto che abbiamo proposto, da Fabio Cannavaro a D'Aversa, da Andrea Soli a Iachini, chi sarà secondo te eventualmente il nuovo allenatore dovesse insomma andare male per Caserta? Intanto dobbiamo capire se e quando maturerà l'esonero di Caserta, insomma, perché anche prima di Genova era dato per scontato e così non è stato. Credo che l'opzione Cannavaro si inserisca nel sorco di una scelta che era stata già sondata, quella con, mi riferisco a quella di De Rossi, cioè di andare a prendere un allenatore per certi versi esordiente, perché Cannavaro chiaramente ha lavorato soltanto in Cina e quindi sarebbe la prima esperienza in un campionato che conta ovviamente di più, la prima esperienza in Europa, o un esordiente assoluto come De Rossi, però due grandi campioni che hanno sicuramente un appeal e una leadership, perché sai, un allenatore può anche non avere esperienza, però insomma, se intanto hai la leadership di un capitano della Nazionale Campione del Mondo è pallone d'oro, se hai la leadership innata di Daniele De Rossi, insomma, poi l'esperienza te la fai, però intanto parti già avvantaggiato, quindi credo che rispetto a tutti gli altri nomi, è chiaro, Andrea Zoli è un allenatore abituato anche a lavorare su dei progetti dall'inizio, ha delle sue idee di calcio e siccome poi ha dimostrato di saper coenogare il gioco e i risultati, è autorizzato a parlare di un suo calcio e di avere delle idee e volerle portare avanti, quindi non è un allenatore da subentro a stagione in corso, che magari è un po' più la caratteristica di uno Ghiachini, che insomma ha chiamato sempre a risolvere i problemi creati dagli altri, però ecco, non mi sembra quello il profilo su cui il Benevento si sia orientato, insomma, ritengo molto concreta l'ipotesi Cannavaro in questo momento. L'esperienza suggerisce che, insomma, meglio non sbilanciarsi e avere un atteggiamento prudente, però direi che Cannavaro, lo stesso De Rossi, che ha ribadito di essere in cerca di una panchina, cioè di voler allenare e quindi di voler concludere la sua esperienza in contesto federale, sono nomi sicuramente da tenere in considerazione, poi è chiaro che ci sono alcuni nomi che erano in lista probabilmente nelle scorse settimane, che saranno stati quantomeno valutati e che ovviamente nel frattempo si sono piazzati altrove, mi riferisco a D'Angelo. Direi che il primo passo credo sia capire definitivamente cosa fare con Casetta se chiudere questa esperienza come credo avverrà, nel senso che ha avuto le sue occasioni, ha avuto dei crediti extra, però insomma non li ha saputi sfruttare e poi si procederà alla sostituzione. Sicuramente Cannavaro, come De Rossi, è un allenatore che ha voglia di panchina e devo dire che nei giorni scorsi è stato chiaramente accostato anche ad altre squadre come il Serie A. Secondo me in pole D'Aversa-Cannavaro, secondo me sono questi due coscieri allenatori. Sono due, D'Aversa è uno del New Deal, diciamo così, degli allenatori dal punto di vista del gioco. Cannavaro è un'incognita ed è tutto nuovo. Cannavaro a differenza di D'Aversa avrebbe più credito. Certo, come immagini, come profilo. Avrebbe un rispetto anche all'interno dello spogliatoio che sicuramente tanti allenatori non hanno. C'è tra D'Aversa e Cannavaro all'interno del spogliatoio. Se un campione del mondo porta bene, perché Genzaghi ha portato bene. Sì, però il mio rispetto te lo crei attraverso la credibilità che tu hai all'interno dello spogliatoio. È vero che se parti magari non ce l'hai come Cannavaro, ma se sei credibile per quello che dici ai giocatori e per come lo dici, ovviamente poi dopo diventi il Cannavaro della situazione. Volevo dire che Puleo non stiamo coinvolgendo in questo discorso, tra poco lo coinvolgeremo in altri ambiti per ovvi motivi di delicatezza. E quindi ci scuserai per questo, ma non è il caso di chiamarti in causa su una situazione legata all'allenatore. Ettore Intorcia, insomma con l'augurio a Caserta, magari anche se leggo i messaggi, non è che gli vogliono tanto bene a Caserta i tifosi. Cioè quelli che scrivono sono tutti per l'esonero. Tutti per l'esonero. Non dovesse essere esonerato, diciamo, però qualcosa dovrà cambiare. Ma dove ha sbagliato Caserta, secondo Ettore Intorcia? Cioè qual è stato l'errore l'anno scorso e all'inizio di questa stagione? Sono più errori. Beh, innanzitutto diciamo non aver creato un'empatia, quindi saper con l'ambiente, perché stranamente è riuscito in qualche modo a compattare in negativo i giudizi dei tifosi anche l'anno scorso. Quindi forse è anche semplicemente una strategia di comunicazione a non far capire anche quella che aveva in mente, quelle che erano le sue idee, le sue preoccupazioni. E quindi sicuramente c'è un aspetto comunicativo che non è in secondo piano nel lavoro attuale di ogni allenatore. E poi, ne abbiamo già parlato qualche altra volta, è proprio quel concetto di voler portare avanti un'idea di calcio senza capire se certe richieste erano adeguate ai giocatori che erano a disposizione. Sicuramente il fatto di aver cambiato sistema di gioco nelle ultime settimane, messo probabilmente anche di fronte a una scelta dall'area tecnica, dai dirigenti con cui si sarà confrontato, sicuramente è stato un buon segno, è una dimostrazione di sapersi adattare a un certo punto e di fare un pass indietro rispetto a certe convinzioni. Credo tuttavia che oltre a certe soluzioni probabilmente anche la gestione della Rosa non è stata soddisfacente perché come l'anno scorso, anche quest'anno, mi sembra che ci siano dei giocatori un po' esclusi dal progetto o quantomeno non si capisce perché non siano chiamati in causa e come l'anno scorso l'inserimento degli ultimi acquisti diventa sempre un qualcosa di molto lento e tardivo. Insomma, volendo fare una battuta, probabilmente Petriccione è dall'anno scorso che aspetta ancora di poter entrare stabilmente in squadra. Per fare l'esempio, con un giocatore che era arrivato e poi se n'è andato e purtroppo le partite passano. non è che puoi pensare di continuare a sistemare e di sfruttare il campionato come laboratorio. Direi, aggiungo, che probabilmente la preparazione di quest'estate non è stata di alto profilo un po' perché il mercato è andato avanti in due fasi distinte, questo un po' per tutti. Poi forse la tipologia di partite messe in calendario non hai potuto neanche forse lavorare sui condizioni ottimali. Insomma, qualche amichevole ho notato anche un campo molto rovinato per cui era anche difficile farsi un'idea delle qualità tecniche di alcuni nuovi arrivi e di quanto la squadra riuscisse poi a supportare una giocata più di qualità e meno di sostanza. Sicuramente nel momento in cui è rimasto, quindi ha accettato la conferma e non ha fatto un passo indietro l'anno scorso e andava avanti e questo lui lo sa bene ad una stagione in cui sarebbe stato sempre sotto esame. Si è sfogato dopo la partita di Brescia però insomma la situazione è quella quindi o uno fa un passo indietro altrimenti va avanti e accetta tutte le critiche anche quando magari possono essere frutto di un prevenzione o di un pregiudizio a un certo punto. Grazie a Ettore Intorcia buon lavoro al collega del Corriere dello Sport Stadio da Roma. Grazie a Ettore, buona serata. A voi, buona serata. Grazie a Ettore Intorcia parleremo ancora di questo ma poi cercheremo di capire però anche dal punto di vista tecnico che cose che nelle ultime due partite non è andata in casa Benevento in campo quindi riguarda la squadra e i reparti le dinamiche di gioco. A tra poco. Rieccoci in diretta 8 gol il grande salotto del calcio di Otto Cianle dedicato al Benevento e alla Serie B non solo con Nando Orsi con Claudio Nofri con Sonia Lantella e con Simone Puleo Puleo, mi è piaciuta la discussione sugli allenatori soprattutto interessante, no direi? Scusso sugli allenatori, perfetto hai detto tu, perfetto non è che si parla di caserta si parla del mondo del calcio di oggi che un allenatore può essere messo in discussione uno no può essere confermato o no ma qua si parla di calcio in generale è il nostro ambiente bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Puleo, ci dice almeno secondo lei quanto vale in percentuale un allenatore visto che Orsi e Nonofri non ce l'hanno detto? Ma gli allenatori si dividono in varie categorie c'è l'allenatore che insegna calcio che può essere faccio un esempio un guardiolo che è quello che secondo me ci vuole vedere c'è l'allenatore gestore c'è l'allenatore gestore Ancelotti un gestore il migliore gestore al mondo sotto tanti punti di vista come può essere ci sono tanti allenatori Simeone Simone non è che nel gioco del calcio ti insegna magari non vedi il gioco del calcio libero del mondo però a fare gruppo però ti dico una cosa Ancelotti è un allenatore gestore Allegri è un allenatore gestore ma sono stati allenatori perché Ancelotti quando stava alla Reggiana quando stava cioè stava in campo ore a insegnare i movimenti anche così quindi poi dopo piano piano allora ti parlo ti parlo di un altro allenatore che io ho lavorato insieme con Biancini io ho lavorato 4 anni con Biancini ho fatto 2 anni il vice alla Lazio e 2 anni il vice all'Inter quando stava alla Lazio era un maniaco della tattica cioè facciamo tattica una o due volte cioè un'ora al giorno grande cosa poi dove andate all'Inter 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 all'inizio faceva tattica tanta tattica ma quando vai in queste grandi squadre c'è grandi giocatori la tattica un po' di tattica la devi mettere da parte e quindi c'è una modifica di grandi allenatori ma infatti è lì il diventare bravo io ho avuto Sarri Sarri a inizio io vi posso raccontare degli aneddoti di Sarri che faccio esempio lui faceva mettere le scarpe nere a tutti i giocatori che non voleva la scarpa bianca cioè hai detto tu l'esempio vai da Cristiano Ronaldo e dici non mettere la scarpa bianca cioè Cristiano Ronaldo e dici senti c'è 100 milioni per mettere le scarpe esatto abbiamo fatto adesso sto facendo un esempio molto studiato sta nella bravura dell'allenatore di capire poi che quando si va in determinati contesti che sono le massime squadre poi su Milano l'Inter la Juve lì bisogna come detto tu insegnare meno gestire di più questo non significa non perdere l'insegnamento bravo perché se no sono due cose diverse ti faccio una cosa secondo voi Pioli è uno che insegna? sì Pioli è uno che insegna ma Pioli ha saputo anche gestire la presenza in contatto come braivo ha saputo mettersi da parte quando il braivo questo è il discorso e Pioli è uno di questi qui perché all'inizio non era proprio movimenti certo adesso lo sta facendo però con un modo di essere per cui è credibile a tutti i giocatori slide 352 433 il cambio la transizione intelligente di Caserta però forse la coperta è corta perché? perché? perché guardiamo quest'altra slide che è legata ai gol il Benevento non sa più segnare è terz'ultima squadra per gol con quattro reti realizzate in due partite con il prossimo e Venezia e poi non ha segnato per quattro partite non ha segnato con Cosenza non ha segnato con il Genoa non ha segnato con il Cagliari non ha segnato con il Brescia quindi quattro volte non è andato in gol guardiamo ecco qua le squadre meno prolifiche della Serie B sono Perugia 3 Benevento 4 Cosenza e Venezia 5 quindi è penultima per gol realizzati insomma sulla carta il Benevento ha Simi Lagumina Forte e Ciano mi sembra attacco di tutto rispetto Nofri? no no assolutamente sì che succede? perché c'è un problema? voglio capire il cambio di modulo dal 4-3 al 3-5-2 può aver creato ma ti ripeto io non ci credo tu stai facendo giustamente dei numeri anche io te li riporto sono i movimenti che fai attraverso perché secondo te 3-5-2 stanno 3 difensori 2 laterali tutti lì sempre fermi i 3 centrocampi è un modo di iniziare la partita per cui non credo che sia quello che poi si difende sempre col 4-4-2 è all'interno di quel contesto per cui tu fai un movimento che avvantaggia anche un tuo compagno è questo e allora quando non vedi questo spartito che si ripete in gara e allora io personalmente da presidente o da dirigente mi metto a fare mi faccio delle domande però quando è cambiato il modulo prima da Genova le tre partite da Genova Frosinone e Venezia è andata molto bene è andata molto bene poi dopo ha incontrato il Cagliaro ha incontrato il Brescia qualche difficoltà c'è stata sicuramente non hanno fatto gol però in generale sono stati più i benefici in fase offensiva cambiando il modulo perché io ho detto prima che vicino a giocatori come Forte giocatori come Simi gli serve qualcuno che gli fa il lavoro sporco che se invece avessero giocato da soli uno perché Simi è un giocatore che deve essere recuperato fisicamente un altro perché Forte è un giocatore che deve mettere in condizioni di far gol a suo modo cioè mettendogli i palloni dentro perché lui non ha la profondità viene sempre incontro quindi devi trovare gli un modo per farlo giocare se tu gli metti uno vicino lui secondo me si deresponsabilizza di certe situazioni io poi mi fisso su certi aspetti Sonia lo sa perché anche l'anno scorso cavalco delle situazioni quella dei cross per me continua a essere un mistero guarda assist nel deserto perché ho aggiornato la classifica dei cross numero di cross in serie B il Benevento da 133 è passato a 157 cioè ci sono stati 24 cross con il Brescia ovviamente Sonia l'altro giorno diceva non dipende solo da forte gli attaccanti dipende da che cross fai se lo fai dal fondo se lo fai dalla tre quarti cioè quelli si contano come cross però se lo fai da dietro il cross sarà sempre per la realtà del difensore o mi sbaglio quindi dipende anche come cross il piede tant'è che scusami e ti interrompo col Venezia due bellissimi cross perfetti il primo di Masciangelo e il secondo di Fulon se ricordo bene sono andati due volte in gol assolutamente Lagumina e poi Kuzupias guardiamo di nuovo questa tabella Benevento è primo per numero di cross ora abbiamo fatto tutti i preamboli che si potevano e potessero fare però che significa tutto questo numero di cross 157 però ti dico una cosa Gianlu guarda chi è la prima in classifica la regina quanti cross ha fatto mi sembra è una delle ultime diciamo che questi numeri insomma lasciano un po' il tempo che trovano come il possesso palla capito perché poi vedo la regina che prima in classifica è quart'ultima nei cross ho capito però voglio capire una cosa voi siete gli allenatori non so se sia come il possesso palla perché se tu fai molti cross durante una partita significa che tu non cerchi tanto per esempio il gioco per via centrale in verticale ma cerchi le ali magari col 352 vai più spesso quindi vai a cercare il cross continuamente almeno questo questi ossidati lo dico non è identificato come cross dal fondo sono cross butti la palla dentro anche dalla 34 ho capito ma la differenza è proprio quella quello che diceva se ci arrivi in fondo allora il difensore io ero difensore era un po' nei casini quando arrivava la palla sulla destra Letizia non va mai sul fondo e crossa si ferma sempre però vedi anche lì Letizia mi ricordo a Carpi era uno che lascia perdere l'età magari ha preso però andava andava e crossava si ora si ferma un po' di più quindi ecco perché le caratteristiche di quei giocatori per l'amore leggero si possono migliorare sono importantissime per arrivare al fine che devi adottare però è il canovaccio che devi insegnare per arrivare a crossare sul fondo non voglio tediarvi ma vorrei ripetere una cosa non la ripeto sul calcio di Blessing che difensivamente parlando è un calcio molto organizzato quando rubi la palla non è più caldo non sanno che fa chi la do? la do a questo la do a quella per dire per me quello è un aspetto fondamentale del calcio organizzato che è soprattutto merito di un allenatore Ursi era anche un gran portiere quando giocava a pallone hai visto Paleari come è cresciuto? tantissimo ce l'abbiamo avuto qui ospite che c'ero anch'io no? sì poi queste partite è stato decisivo in molte fasi io dico che lui è stato decisivo in quasi tutte le partite a parte quell'uscita nel secondo tempo vabbè ci può stare dai era proprio per metterci una virgola no ma la domanda è quando un portiere è sempre protagonista durante tutta la partita tutte le partite c'è qualcosa che che non va che mi sfugge capito quello che voglio dire quindi anche anche in quel caso bisogna farci qualche domanda che domanda dobbiamo farci? possiamo dare qualche risposta? allora io ti posso dire una cosa secondo me Caserta è stato anche penalizzato dal fatto ad esempio che Le Verbe è arrivato tardi che Barbe è andato via tardi o presto cioè la fase difensiva secondo il mio punto di vista è una fase difensiva che tu devi curare su delle certezze cioè più giocano sempre gli stessi giocatori e più hanno tra di loro come si dice la la sintonia la sintonia la sintonia giusta invece lui Caserta è sempre stato quasi costretto a cambiare no Le Verbe sia in difesa che al centro campo capito quindi però la fase difensiva è molto importante soprattutto quando giochi a tre perché è diversa perché c'hai un centrale difensivo che sta più dietro gli altri due che ti coprono un po' cioè quindi diciamo che sei partite sono anche poche per i giocatori che ha che ha che ha fatto giocare capito e quindi quando il portiere come ripeto è uno dei migliori in campo vuol dire che la fase difensiva non è perfetta traballa un po' Sonia non ti ho chiesto perché il Benevento guardiamo le partite le sei partite del Benevento cioè il dettaglio con i risultati perché se no perché se ne ha poco perché se ne ha così poco una domanda facile tu sai tutto ti pareva ma guarda vanno analizzate tutte le singole partite col Cosenza il Benevento nel primo tempo crea tantissimo cioè nel primo tempo due gol sarebbero stati pochi per quanto ha creato il Benevento con un giocatore come Farias che poi però non abbiamo più visto chiaramente per scelta tecnica poi si è anche infortunato col Genoa non hai segnato perché hai giocato per non far giocare il Genoa cioè la missione era portare a casa il punto quindi contenere gli attacchi avversari poi c'è stata la Gumina che in contropiede aveva avuto anche un'occasione che là se la butti dentro poi vinci una partita così non giocando poi col Frosinone fai due gol dominando e giocando bene a mio avviso ha giocato bene col Venezia fai due gol col Cagliari il Cagliari gioca malissimo a due occasioni con la Padula che tra l'altro Capellini involontariamente gli allunga il pallone poi in contropiede in dieci uomini il Benevento ha minimo minimo tre occasioni con Forte tre tre con Forte poi ce n'è stato anche qualcun altro e non la butta dentro sai è anche quello devi vedere è chiaro che poi io non posso essere d'accordo con Fabio Caserta quando dice vabbè se crei non mi pongo il problema non mi pongo il problema anche se crei non segno me lo pongo sempre se si perde il problema bisogna sempre porselo perché si perde se crei non segni devi porre il problema perché non segni perché quando crei tanto e non fai gol gli attaccanti può la porta e si stringe è chiaro che tu devi trovare anche come dicevano prima un equilibrio cioè gli attaccanti i due attaccanti devono coprire bene gli spazi devono coprire bene gli spazi davanti alla porta non si devono calpestare i piedi deve avere dei terzini dei quinti che abbiano comunque quel cross adatto a quei calciatori se hai calciatori di stazza che ti danno centimetri i cross alti e tesi sono i migliori rispetto a quelli rasotelli devi avere tante caratteristiche come quando giocavi col 4-3-3 con Forte davanti Forte non ha le caratteristiche per giocare in un 4-3-3 lì da solo ma non ti segnerà mai la padula invece ti faceva gol e te lo faceva bene perché ti fai riparto da solo capisci che voglio dire ad esempio perché hai segnato due gol doppietta col Frosinone e doppietta col Venezia perché per caratteristiche lasciamo fuori valori per caratteristiche la Gumina è forte si sposano meglio e a Frosinone si stavo chiedendo proprio questo ha fatto due gol forte ma il migliore in campo è stato la Gumina la Gumina ha giocato meglio di Forte che ha fatto due gol capito che voglio dire Rico Fedele mi diceva secondo me Simi e Forte insieme si pestano i piedi non sono l'ideale non sono la coppia ideale perché sono molto simili però ovviamente un allenatore che ha questi due magari li fa giocare perché sono i due più rappresentativi più forti più di qualità più orsi però non si sposano benissimo non si sposano bene però l'allenatore secondo me li fa entrare anche perché che ne so vuole dare fisicità lì davanti se vede che il Brescia sta pressando allora io butto la palla avanti ho due alti stoppo la palla mi faccio fare posizione pure spizzo una palla quindi ho più possibilità che con uno veloce capito cioè quando soffri tanto metti due attaccanti alti prendo sta palla la conquisto la butto avanti alta me la vado a giocare questo può essere stata l'idea però dall'inizio una partita può succedere ma non può essere una cosa normale l'anno scorso per dire il calcio non è un cartone animato io ricordo ero piccola voi no c'è più grandi forse Oli e Benji non l'avete mai visto dove il Brasile giocava solo con gli attaccanti no Mark Lens allora l'anno scorso ad esempio ma perché ti veniva l'acquolina Caserta aveva Farias forte aspetta ferma forte e la padula e li fece giocare tutti e tre fece giocare Farias trequartista dietro a forte e la padula che abbiamo detto anche noi forza vai osa e l'attacco delle meraviglie e se ricordate non fece nulla in questa circostanza con chi giocò con l'ascoli per usare un termine non fece bene ora io non ricordo però per dire l'equilibrio hai giocatori forti ma devi mantenere l'equilibrio in campo perché se li metti tutti dentro tranne se lo fai come Mourinho che con l'Inter gli ultimi dieci minuti si sparava tutte le cartucce non vedendo tutte le partite è chiaro che è difficile stabilire certi connubi sul fatto di quello che dicevate prima che li mette perché sono i più rappresentativi allora non puoi farlo all'allenatore non puoi farlo all'allenatore questa è una mia concettura no ma non te ma non stavo parlando stavo parlando come concetto perché onestamente voglio dire tu non puoi vabbè se tu hai Lukaku Lautaro Martinez e Sanchez fai giocare Lukaku e Lautaro Martinez ho capito ma io la prima cosa magari però Sanchez si sposa meglio con Lukaku ora non voglio fare il fenomeno del presuntuoso io dico io personalmente va bene io metto in campo la squadra che più mi dà fiducia e la coppia che è più complementare una con l'altra va bene e questo poi se te ti chiami Ronaldo no Ronaldo Ronaldo lo metto anche in difesa non c'è problema però non so se mi sono spiegato voglio dire perché sarebbe una lacuna importante per un allenatore adattarsi poi lo puoi fare con qualche sfumatura ma se è un binario unico lo faccio giocare perché altrimenti il Massimo l'hai comprato per farlo giocare immagino alla fine di agosto magari non è ancora in condizione però queste sono tutte congetture poi bisogna vedere sul campo come reagiranno perché è giusto anche sottolineare tutto a favore di Caserta che non ha potuto provare gli è arrivato tutto addosso alla fine questo è importante e adesso parleremo proprio della sosta subito dopo la pubblicità Puleo soddisfatto anche di questa discussione sugli attaccanti ha da aggiungere qualcosa? no mi piace ascoltare anche ascoltare si impara tanto nel mondo del calcio sì ascoltare si impara sempre tanto nella vita visto che lui ha fatto il difensore dopo gli chiediamo come si fanno a prendere quei due gol col Cagliari e quello con il Brescia soprattutto il primo col Cagliari perché sai il secondo è un contropiede ma il primo mi devi spiegare al di là di Capellini che allunga il pallone per la padula la difesa era tutta schierata nessuno che va sulla padula come si fa? devo rivederlo bene perché ma in generale non lo ricordo ma non mi ricordo i movimenti dei difensori no non ci vanno quello che dice Orsi Orsi dice che Paleari è stato impegnato troppo quindi significa che la fase difensiva non funziona benissimo nel Benevento Puleoda ex difensore è d'accordo? c'è qualche lacuna che ha individuato nel corso delle partite a me piacciono i numeri nel senso sì no se non cagli a me piacciono i numeri cioè io penso che il risultato non della singola partita perché il risultato di più partite dimostra il vero valore della difesa o dell'attacco se un attacco in sei partite fa 50 gol adesso stiamo facendo esempi esagerati significa che l'attacco funziona puoi metterci chi vuoi chi non vuoi ma l'attacco funziona infatti è una delle migliori difese per gol subiti ma come al contrario è tra le prime cinque per gol subiti adesso vado mentre invece è il penultimo attacco quindi c'è una cosa per questo dicevo la coperta è curta tu hai perso la prima partita questo senso perché per non subire gol può darsi che può darsi che ci sia dandogli io l'assist a Nando quando ti abbiamo detto non è un 3-5-2 è un 5-3-2 e questo ti fa capire tutto il dato allora quindi a coperta è coce significa tu hai privilegiato di non subire gol e però l'avanti non riesci a può essere ho fatto un esempio su questo tipo tu hai preso due gol adesso Brescia e stesso Cosenza Cosenza cioè Tedio un centrocampista che ha fatto un retropassaggio purtroppo in quella partita suicida come ha detto come si chiama il ragazzo che ha fatto il movimento Capellini Capellini no quello col Brescia ah Cusubi Cusubi non è un errore dire parto però vedi in questo senso quel tipo di azione per dire difensiva se hai dei movimenti preventivati che erano quelli di Enrico Sacchi io ripeto eccetera esce tutta la difesa tutti e quattro salgono sul passaggio indietro dal laterale al centro non ti affidi solo alla scelta del giocatore che ha sbagliato il giocatore però non sei ha fatto un qualche cosa che ha pensato lui in quel momento è differente invece se conosci quello che devi fare sempre nello spostamento della palla e dell'avversario tu allora se sbagli vuol dire che non puoi giocare a pallone perché io te l'ho insegnato tante volte però se tu mi insegni un giocatore che si stacca da un uomo in aria è un errore si ma se il movimento è di reparto quello so se riesco capito allora devi muoverti in quella maniera indipendentemente dalla posizione dell'avversario e della palla va bene fai questo movimento la palla dal laterale viene in centro e invece quella è stata una scelta sua sbagliata è colpa sua non è di dell'allenatore però io cioè ribalterei il fronte nel senso che se tu non hai quella cosa allora la colpa va esclusivamente all'individualità e c'è sempre qualcuno che sbaglia Simone Puleo ha giocato anche nel Monza oltre che nell'Avellino e in altre squadre quindi è come se tu avessi battuto la Juventus l'altro giorno quindi magari magari a Benevento molto non saranno contenti Benevento ha battuto alla Juve perché Benevento ha battuto la Juve con un gol di Gaiz e quindi lui era ancora responsabile del settore due anni fa quel maledetto gol io ho fatto la telecrona di quella partita io stavo a Torino ci siamo visti a te maledetto gol no perché da lì pensavano da lì hanno pensato di essersi salvati invece no e da lì 12 sconfitte consecutive da quella partita no no non consecutive però ci sono state non hanno più vinto ma la Juve in questo è pericolosa cioè la Salernitana che conquista un punto importante poi perde in casa quel legge chissà forse ti ti fa abbassare l'adrenalina forse è certo chi lo sa così allegri sta pure più tranquillo ci fermiamo tra poco analizzeremo un po' i benefici ipotetici di questa sosta che arriva però al momento giusto un po' di calcio giovanile con il Benevento che insomma cresce tanto da questo punto di vista tra poco rieccoci in diretto 8 gol il grande salotto del calcio di 8 channel Benevento in fibrillazione per capire che succede con Caserta la cui panchina traballa lo salutiamo il mister e lo abbracciamo certamente abbiamo analizzato un po' quelli che possono essere gli scenari poi adesso li ribadiremo nel corso di questa chiusura di appuntamento arriva la sosta ah no devo andare prima da Sonia Lantella perché Sonia ci sono novità su Karic sì allora ha rimediato un forte trauma contusivo al ginocchio destro forte trauma contusivo al ginocchio destro prima di tornare sulla panchina sugli allenatori su Caserta e sugli eventuali successori vorrei parlare della sosta perché qui arriva la sosta Caserta o un altro allenatore comunque la sosta a qualcosa serve soprattutto quando ci sono giocatori che in condizione non ci sono arrivate ancora la sosta serve per il recupero degli infortunati se c'è qualche stiramento così un primo grado così tu riesci a gestirlo botte contusioni e in più per allenatore serve per un po' di di recupero fisico e e tattico tattico importante perché poi c'è la valutazione delle sei giornate di campionato cioè secondo me sei giornate di campionato l'allenatore si deve mettere 4-5 ore dentro una stanza rivede tutte quante le partite vede quali sono stati gli errori più frequenti vede se la difesa lavora bene sugli scivolamenti sull'elastico difensivo i sei centrocampisti sono complementari cioè uno va l'altro si ferma cioè i terzini soprattutto perché sul 3-5-2 sono i quinti sono molto importanti se sono troppo offensivi o troppo cioè c'è un'analisi secondo me di queste partite dove tu puoi mettere riparo poi fai il rendiconto ai giocatori e poi fai il rendiconto ai giocatori lo fai vedere durante ci sono anche le proiezioni delle partite fai una specie di montaggio su quello che è andato bene su quello che è andato male e così su 15 giorni servono a questo allora Simone Puleo primavera prima in classifica dice che non contano i risultati però forse per la primavera un po' cominciano a contare Under 17 5 punti quindi una vittoria e due pareggi su tre giornate tra poco il 25 domenica prossima comincerà anche il campionato Under 16 e quello Under 15 quindi si completerà poi il quadro di tutte le categorie del settore giovanile quali novità quest'anno insomma e soprattutto i propositi i propositi di crescere sempre io credo che i giovani hanno la possibilità ogni anno di imparare qualcosa col fatto che crescono si parte poi da un percorso che nasce dai direttanti poi si diventa professionisti ci mi stavo imbalbettando con la parola e quindi c'è sempre un percorso di crescita voi nomi non ne fate di solito di calciatori se io le chiedo Culeo c'è qualcuno che sicuramente arriverà in Serie A ma li fate? alcuni si allenano col Benevento noi con la prima squadra abbiamo un ottimo rapporto e cerchiamo sempre di collaborare dicendo che i quali che magari secondo noi sono quei giocatori più pronti in questo momento per l'ingresso di prima squadra sapriamo che è difficile noi crediamo molto in Sam un attaccante 2002 che sta in prima squadra che ha una forza fisica imponente speriamo che nell'arco del futuro troverà però va indottrinato un po' da quello che ho capito ha caratteristiche ma deve ancora imparare è un ragazzo che ha iniziato a giocare quando aveva 16 anni e come tutti i ragazzi magari di colore ha una forza fisica straripante però magari cognitivamente ha qualche ritardo calcistico naturalmente stiamo parlando qualche ritardo calcistico però è un giocatore su cui bisogna sempre buttarsi l'occhio Puleo il Benevento ha un buon settore giovanile se ne parla bene in giro i migliori settori giovanili in Italia sono quelli dell'Inter del Milan del Sassuolo e dell'Atalanta credo che siano questi quattro siete d'accordo? Sassuolo, Atalanta Inter e Milan credo che siano superiori i primi quattro cittadini Sassuolo, Atalanta Inter e Milan anche la Roma anche la Roma di cosa c'è bisogno per arrivare al livello di questi c'è soltanto una questione di denaro perché gli investimenti sono alti un po' c'è una mentalità sbagliata qua al sud dove il genitore del ragazzo del sud preferisce sempre andare al nord perché si ha questa mentalità che al nord si possa crescere più velocemente un po' è vero perché il nord ti permette di crescere in strutture diverse le strutture sono importanti se tu vai a Interello ci sono otto campi da calcio se tu vai a Vismar al Milan ci sono nove campi da calcio se vai a Zingonia la spendono 6 milioni all'anno per il settore giovanile a Zingonia l'Atalanta la Roma ne spende 10 il Napoli spende un sesto più o meno o di meno per esempio è un percorso a 360 gradi scolastico formativo calcistico quindi ci sono delle grosse possibilità ci sono delle grosse possibilità e credo che al sud purtroppo questo in generale come si chiama si pensa più al risultato della prima squadra che investire nelle infrastrutture del settore giovanile e questo vuoi o non vuoi alla lunga si paga ma lo dimostra anche la stessa serie A le squadre del sud sono veramente poche sono delle squadre che spesso fanno su e giù adesso per esempio il Lecce una volta va in su va in su però diciamo le 10-12 del nord sono di fisso quasi sempre al nord e questo è un problema ti ripeto che a volte al sud si preferisce investire sulla prima squadra perché magari ci sono meno problemi con i tifosi ma fate anche voi così Guleo? no no noi abbiamo fra fortuna un presidente una domanda proprio ignorante in materia perché io seguo molto la prima squadra seguo poco il settore giovanile tu parlavi di questa differenza tra nord e sud di queste squadre non parliamo di Milan inter attenzione parliamo di altre squadre però non è che lì magari creano anche delle sinergie con squadre più importanti invece al sud si tende a camminare da soli mi spiego meglio il Benevento che può creare una sinergia con il Napoli piuttosto che con un'altra squadra importante invece che camminare da soli altre squadre al nord creano queste sinergie te la butto lì e poi io veramente ve lo dico da chi ascolta non da chi è dentro ma guarda io ti dico che secondo me ci sono però delle squadre lo dico in maniera tranquilla che non hanno paura di rischiare cosa che noi nel calcio oggi italiano abbiamo sempre paura di rischiare ma vale per tantissime squadre non solo parliamo di Benevento anche il Benevento ha paura di rischiare ma a volte anche il Benevento può capitare perché dipende anche dai progetti dai programmi che ognuno ha paura di rischiare il Benevento ha paura a volte si ha paura di rischiare faccio esempio ieri del Sassuolo ha messo dentro un 2004 d'Andrea un ragazzo campano che viene da qua quindi per farti capire ma il Sassuolo si gioca la Serie A infatti il Sassuolo ha molto coraggio oltre ad avere un grande settore giovanile e lì la differenza è che a volte ci sono società che hanno il coraggio e il Sassuolo in questo momento viene ripagato perché tutti i giocatori che ha poi li rivende Raspadori viene dal settore giovanile rivenduto al Napoli per 25 milioni 35 milioni sono tutti giocatori che comunque c'è una margine di rischio che a volte si prendono e noi in Italia soprattutto perché il problema del calcio italiano secondo me sta anche lì come ha detto prima il mister non si rischia mai cioè no ma noi dobbiamo puntare a vincere ma buttalo se vuoi vincere se buttalo non penso che si perde per un giocatore in campo su 11 perché butti a 10 minuti dalla fine un giocatore non credo che poi se perdi per quel giocatore lì a volte può essere il caso devi anche avere l'assenso della società la protezione della società che ti dice faccio giocare questo però non c'è nessun problema però bisogna culturalmente capire che non hai i risultati dopo 5 minuti e quindi anche gli spettatori chiamiamoli così cioè i tifosi devono anche se vuoi cercare di migliorare lo standard definitivo devono anche capire che stai facendo un qualche cosa di operativo per il futuro perché io seguo per esempio i campionati scandinavi in Norvegia in Svezia in Danimarca eccetera hanno delle scuole calcio in Africa da dove prendono i migliori e li portano dopo 5 minuti li fanno giocare è vero che c'è una pressione diversa minore ci mancherebbe ma lo so non c'è problema ho capito ma se noi la vogliamo aumentare la pressione e diminuire l'investimento e allora poi ci riduciamo come siamo messi adesso stavo dicendo che comunque quando il Benevento era in C e ha sempre fatto un ottimo settore giovanile con il fratello del presidente Oreste Vigorito Ciro Vigorito non ci dimentichiamo che parliamo di una squadra di C ha tirato fuori Antonio Vacca che è arrivato in Serie A Buonaiuto che è arrivato in Serie A poi questa è una spina nel fianco però Parisi da dove viene? Da Benevento dal settore giovanile del Benevento quindi attenzione non è proprio insomma se si lavora bene qualcosa può spina nel fianco perché l'avete perso è perché sono un po' perso le problematiche a volte chi ha sbagliato le votazioni? No non è sbagliare le votazioni perché a volte sono dinamiche io faccio un esempio Parisi era un buon giocatore e si è arrivati in Serie A tu nello stesso ruolo avevi in quel momento Sagna e Maggio uno campione del mondo uno che ha fatto 400 partite tra Serie A cioè come fai a far giocare Parisi? Benevento ha un obiettivo che si deve giustamente salvare cioè non è che puoi pensare e si affida a quelli più esperti quindi non è un errore sono stati di necessità però il mio discorso era in generale il calcio italiano dovrebbe rischiare di più su qualche ragazzo italiano perché se a volte andiamo a leggere le Primavera 1 purtroppo ci sono tutti stranieri ma infatti se vedi la Nazione Italiana che è costretta ci viene in soccorso Maganuce la vedete quella è una birra allo zafferano che porta il nome l'ho bevuta è buonissima allora è particolare è una birra è buonissima prendiamo una bottiglia la regaliamo volentieri a colazione birra allo zafferano va bevuta fredda porta pensa il nome della prima strega di Benevento ce l'ha insegnato Oreste Vigorito che peraltro la produce quindi è sua www.maganuce.it per l'acquisto il metro del Benevento la possono acquistare tutti non è marchio Benevento c'è anche tutti quelli che vogliono assaggiare non c'è lo scudetto del Benevento c'è una strega c'è una strega e c'è il nome Maganuce c'è una birra dentro allo zafferano che è molto particolare bevuta fredda è davvero buonissima www.maganuce.it per acquistarla perché si può acquistare solo attraverso internet quindi andate ad ordinarla allora andiamo cara Sonia andiamo a Caserta ad Aversa gioco di parole o alla Loggetta che la Loggetta è la zona di Poliglotta di Napoli sapete è la patria di Cannavaro allora guarda io ho una fortuna sfortuna quello di seguire il Benevento in trasferta di vivere il Benevento in trasferta non ci sono state comunicazioni ufficiali a me perché non sono stati fatti a Caserta quindi è chiaro che sappiamo che parliamo di professionisti di Vigorito di Foggia per cui non ci sono state comunicazioni ufficiali però io ho avvertito l'ambiente io dopo la partita ho visto gli sguardi il mio sguardo ci è incrociato con i loro sguardi e da quello che Sonia ha percepito io vedo veramente complicata una riconferma stavolta di Fabio Caserta non ho visto ciò che ho visto a Genova io ero anche lì e lì sentivo che si stava andando verso un dietrofront questa volta sono onesta non l'ho percepito ho visto un po' di gelo un po' di secondo me ecco secondo me stavolta si cambierà e io ho detto in poll da Versa Cannavaro però ecco voglio essere ancora più precisa in termini di percentuali secondo me Fabio Cannavaro è un po' più avanti e quindi insomma si potrebbe andare verso quella direzione là Napoli tu hai detto il quartiere la loggetta Napoli o a Versa che provincia di Caserta quindi o si resta in provincia di Caserta però insomma pare secondo quello che ci dice Sonia che nel ballottaggio sia in vantaggio la loggetta quindi fuori grotta quindi Napoli quindi Fabio Cannavaro Onofri insomma possiamo chiudere il nostro appuntamento di questa sera con diciamo questa valutazione è questa informazione diciamo indiscrezione che Cannavaro potrebbe essere il nuovo allenatore tutte le cose soprattutto nel calcio dove non c'è una verità assoluta mai perché è una materia talmente elastica talmente quindi io parlo così per come penso io avrei la sostituzione dovrebbe essere fatta con un un criterio sì con un criterio più appropriato alla categoria a quello di cui ha bisogno eccetera perché Fabio Cannavaro arriva da molto lontano e quindi forse in Cina si gioca come in serie B in Italia sì no no ma non è una questione di valori è proprio un modo di 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 però voglio dire ci sono anche poi altre situazioni alternative più positive il nome il cognome e tante altre cose e probabilmente anche la capacità che però onestamente non conosco perché non ho mai visto operare dal vivo sarebbe una scommessa per pensare positivo perché poi bisogna pensare positivo certo vi ricordate quando De Zerbi è arrivato al Benevento ragazzi non era De Zerbi De Zerbi veniva dalla serie C col Foggia e da una parentesina col Palermo bruttissima se non erro fu anche sonerato De Zerbi è diventato De Zerbi nel Benevento un retrocesso questo solo per dire che poi bisogna anche avere il coraggio di dare una chance il coraggio di osare e poi chissà comunque è un nome importante anche se vogliamo noi parliamo di Benevento una città di provincia un'ulteriore anche operazione d'immagine diciamo così assolutamente sarebbe un'operazione d'immagine spavolosa e poi chiaramente parla anche il campo chissà quindi comunque questo per guardando al futuro poi è chiaro l'hai detto tu con Caserta c'è affetto c'è stima c'è tutto però poi siamo chiamati anche a parlare di futuro con Cannavaro ecco Orsi sarebbe anche la prima volta che qualcuno gli dà da Cannavaro una chance una posizione diciamo di allenatore in un contesto anche di buon livello insomma perché il Benevento e la Serie B sono un ottimo livello quindi mi sembra che ci sia l'opportunità anche per lui di cimentarsi in una dimensione importante assolutamente in una dimensione importante in una dimensione però sicuramente diversa perché è una città con una storia è una città che ha delle ambizioni una squadra che ha delle ambizioni e quindi la scelta io non lo so di Cannavaro potrebbe andare proprio in questa direzione cioè una scelta di personalità ma anche di ambizione da tutte due parti e allora siamo in chiusura un abbraccio a Fabio Caserta e vediamo che succede se resta lui o se arriva Fabio Cannavaro sulla banchina del Benevento lunedì prossimo quando ci rivedremo qui lo sapremo certamente grazie a Nando Orsi grazie a Claudio Onofri per essere stato con noi a presto Onofri grazie a Sonia Lantella a voi grazie non abbiamo ringraziato Glamour Calabro e Letizia Forgione lo facciamo in chiusura e grazie a Simone Puleo coordinatore del settore giovanile del Benevento cominciano under 15 under 16 dopo primavera e under 17 che già stanno andando bene in bocca al lupo per la stagione ne parleremo volentieri prossimamente anche perché noi alla fine di ogni trasmissione già dal prossimo mese diamo sempre il resoconto della settimana delle quattro categorie dei giovani del Benevento buona serata e buon lavoro grazie a Simone Puleo grazie a voi grazie a tutti per averci seguito con l'incognita allenatore e con tutti gli input che vi abbiamo dato chiudiamo qui la nostra trasmissione lunedì prossimo ci sarà un altro Benevento in un modo o nell'altro buonanotte a tutti a lunedì con 8 gol grazie a tutti